di qua vieni su no no ma è fermo quando quando devi fare il saltino adesso vi butto giù un invito se trovo un sasso da invito ve lo metto lì noi perchè siamo su di qua ma lui è stato su di là anche tu sei stato su di là che ha pure l'invito è il regno di lui cosa lo prenderì a sicurità che figaro non c'è dentro neanche uno con la ruota davanti non la puoi poggiare qui e salire che figaro devi stare un po' vieni chi minga devi stare un sassone no ho capito figaro da là fino a qua nella palta ascolta eh ma sono piccoli sono piccoli che cazzo ne fai una volta che c'è un ostacolo non lo volete azzerare no vogliamo che prendi lo faccia così è un po' fatica ma se ci fa subito al cappetto li fa al cappetto li fa anche qua è un pezzo e non c'è l'acqua tu puoi prendere l'acqua non c'è l'acqua è l'acqua è l'acqua che sta vinta dai dai un po' di niente chi l'arte li metto chi l'arte li metto chi l'arte li metto il buco lì opp via Frank opp ce n'è un altro anche troppo questi qua adesso vanno al ponticello Pietro vanno al ponticello e scendono da lì voglio vederli a scendere scendono scendono una parola grossa perché li vuoi trovare andate al ponticello e si firma lui a meno che è caldo no io l'ho già guardata da lì però puoi entrare puoi entrare? no la ruota dietro su di qua la ruota la ruota su di qua la ruota senta il tubo tanto i tubi non servono a niente che cosa di non è che dentro di questo lato